La LEM, un'azienda che è nel settore dell'occhialeria specificatamente del iniettato dagli anni 80. Come sta andando il mercato dell'occhialeria dal nostro punto di vista direi abbastanza bene, sostanzialmente per due ragioni. Il rapporto euro-dollaro ci è diventato favorevole, quindi rispetto a 4, 5, anche tre anni fa in cui il rapporto dollari stava sul 1,3 a 1, oggi è praticamente diventato 1 a 1, quindi ci rende molto più competitivi rispetto ai fornitori asiatici che per anni hanno imposto una strategia di prezzi che ci ha veramente penalizzato. La seconda ragione è perché stiamo finalmente capitalizzando tutti gli investimenti in design e tecnologia. La combinazione tra l'artigianato e la tecnologia cominciano a diventare prodotti interessanti. Il settore di export in cui siamo più forti, direi senza ombra di dubbio gli Stati Uniti, perché è uno dei paesi insieme ad altri, ma in misura maggiore degli Stati Uniti, il Made in Italy ha anche un valore importante nella qualità percepita. Da quest'anno ricominciamo ad investire sulle persone, quindi abbiamo un piano di assunzioni abbastanza ampio, valutiamo di assumere almeno 10 persone quest'anno.